Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video di Fortnite Raga, come potete vedere dal background mi trovo all'interno della mia stanza d'albergo Qui a Fiamcamme abbiamo un ospite un pochito, no pochito no, talmente speciale che Avanza, avanza, prego, prego, un po' più attenzione il tavolino, prego Un po' più avanti, un po' più avanti, faccia vedere, si abbassa un pochettino Ragazzi, direttamente dallo shop di Fortnite Più a sinistra, più a sinistra, ancora, 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 ancora Ok, ora puoi salutare, bravissimo Ragazzi, secondo voi, chi è questo soggetto qui a fianco a me? Chi è? Svelati, svelati e fai il tuo saluto Vai Come state gente? Sono qui a far visita Con questo ciuffetto un po' scompigliato però Ragazzi abbiamo fatto un po' di TikTok, sveliamo questa cosa anche qui, che dici? Sì ragazzi, l'ho convinto Finalmente ragazzi, è un nuovo trend, mi sono infiondato anche lì dentro Abbiamo fatto delle cose, delle cose bellissime Lo annunciamo oggi, intorno a che orario? Non lo so Mamma mia comunque quant'è brutta l'inquadratura Raga, giuro, ve lo prometto, mancano pochi giorni e poi basta rapide rischiose E voi vi chiederete subito, ma perché anche oggi rapide rischiose se non ci sono stati update? Io da bravo controllore del cantiere stile proprio vecchietto non ho notato nessuna modifica in questa zona apportata in questi giorni Nel senso, al momento il luogo in cui mi trovo si trova alla terza fase come ben tutti sappiamo Non potrà andare avanti, non potrà farlo finché non ci sarà l'evento di Star Wars questo sabato 14 dicembre E quindi perché vi sto dicendo tutto ciò? Raga, domani ci saranno i Game Awards 2019 Fortnite potrebbe essere nominato come il miglior e-sport game del 2019 Che dite se lo merita? Ma non è assolutamente finita qui perché l'anno scorso, se ricordate bene, durante questo evento Subito dopo aver visto il trailer di presentazione di Fortnite e Game Awards 2018 Ragazzi, puff, rapide rischiose, sparita Avevamo detto addio a rapide rischiose ed un caloroso benvenuto al The Block Tra l'altro lì a sud-est 165 vi è un altro lama che ci sta spiando Nella stessa posizione di questo di fronte a noi Adesso io mi chiedo, ciò che vedremo domattina a Game Awards alle 2 del mattino come già detto prima O sarà l'anticipazione di qualcosa che succederà all'evento di Star Wars Oppure qualcosa legato alla patch 11.30 Quindi un update natalizio Ovviamente non temete perché sarete i primi a sapere tutto Ogni cosa che verrà presentata in quella conferenza di Game Awards Verrà riportata qui sul canale alle 7 del mattino Detto questo ragazzi è ora dello shop giornaliero Che dite? Lo andiamo a scoprire assieme? Let's go! Però no, aspettate raga Momento magico del video mattutino Ho qui assieme a me ovviamente la clip della casella numero 11 del calendario dell'avvento Sorellina corri con l'unboxing vediamo un pochettino che cosa troviamo Vai Amo già questo suono Mi piace un sacco È una skin color nero Una catta È la Lynx raga È la Lynx Che bella Ma perché hanno tutti questo collo girato? Perché sono così? Perché sono posizionati in questa maniera? Comunque molto bella come skin L'apprezzo tantissimo anche in gioco Andiamola a vedere subito Tra l'altro super random raga la sto utilizzando anche nel colore in cui è nel calendario dell'avvento Non vedo l'ora raga Non vedo l'ora di tornare ad unboxarlo per voi Detto questo ragazzi grazie infinitamente per tutto il vostro supporto quotidiano Anche se i video che sto caricando in questi ultimi giorni non sono della stessa qualità dei giorni precedenti Questa è una cosa che ammiro da parte vostra ragazzi davvero Grazie 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 Andiamo a cliccare sul negozoggetti e scopriamo lo shop di oggi Raga questo è lo shop di oggi ed abbiamo zuccherina che non usciva da 345 giorni qualcosa del genere Esatto perché l'ultima volta che è stata vista nello shop giornaliero risale al 31 dicembre 2018 Ovvero l'ultimo dell'anno Skinny da 1500 No Proprio così no Dicevo skinny da 1500 e-bucks che l'ho acquistata la prima volta che uscì E ricordo tantissimo che utilizzando dei settaggi molto bassi si presentava con un colorito diverso dal solito Dolce come frutti d'inverno Prima apparizione stagione 7 Vediamola con il suo backpack originale ragazzi a quanto pare non fa parte di nessun set Quindi si presenta come skin singola Andiamo indietro abbiamo 3 emote 2 rare quindi 500 e-bucks per entrambe e poi una da 200 non comune Partiamo subito con aquila Fianchi ballerini emote attraversamento Ragazzi non dico altro L'amo L'amo Una delle migliori attraversamento davvero Pugile ombra 200 e-bucks Ne vale la pena? Non lo so ragazzi decidete voi Bacchetta stella voglio subito ascoltare il suo suono Ascoltiamo Ok Pesantissimo Aggressive GG Oddio è tornato raga 1200 e-bucks Qualche settimana fa abbiamo visto la versione femminile di questa e... Ok È davvero un incubo Sia lei che il suo backpack Oddio Si piega in modo incontrollabile Ma sinceramente è stata incontrollabile alla manina di colui che ha disegnato questa skin Motociclista tanto bella quanto il suo backpack che è stato implementato da pochissimo Una semplicissima ruota però con un portachiavi davvero fighissimo 1500 e-bucks per questa skin E rubino 1200 raga Cosa dobbiamo dire su rubino? Commentatela voi Facciamo un bellissimo 360 su di lei con questo bel backpack assieme a delle JBL come cuffie Fa parecchio squat la tipa ragazzi Fa parecchio in palestra Andiamo avanti ascoltiamo il sound di questo piccone da 500 Bello Devo utilizzarlo Mamma mia raga Picchia forte Ultimo item dal set Ce li ha strati E mi sa che è l'unico item che mi manca dello shop di oggi Va benissimo L'avviatore Una skin che raga è un pochettino elettrica Bello anche il suo backpack la parte frontale con una batteria ragazzi la dice lunga 1500 e-bucks per lei procediamo Ascoltiamo questo Bello sto sound GG Fatto benissimo 800 e-bucks Finito ragazzi Come sempre vi ricordo che se volete potete supportarmi tramite tutti i vostri acquisti Cliccando qui in basso a destra sulla voce supporto a un creatore Digitando al centro della schermata il mio code JKR Martex Maiuscolo minuscolo è uguale ragazzi L'importante è cliccare su accetta e riaggiornarlo ogni 14 giorni Io spero che questo brevissimo video vi sia piaciuto raga Se così fosse mi raccomando lasciate un bel like Condividetelo con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti Noi ci becchiamo in un prossimo video mattutino Un salutone da Martex Sia Pruders Ciao Ciao Ciao